Il bonus di 100 euro agli studenti con la media superiore del 9 al liceo Scarcele ha acceso il dibattito non solo tra i ragazzi dopo la contestazione della rete studenti medi ma anche tra gli educatori. Il preside dello Scarcele difende la sua scelta di premiari meritevoli con la serata delle eccellenze e si stupisce di tanto clamore. Non è vero quello che si dice a proposito della pressione, dell'ansia, del disagio che questi ragazzi soffrirebbero a causa delle premiazioni o della competitività delle scuole in generale. È vero che negli ultimi periodi, soprattutto nel periodo post-covid, ci sono stati disagi che i nostri ragazzi stanno vivendo ma sono del tutto slegati dalla premialità. Sono delle argomentazioni pretestuose che non si capisce per quale ragione alcuni sostengono per contestare il merito. L'idea al preside è venuta negli anni in cui era dirigente scolastico in un istituto superiore di Vicenza, poi l'anno scorso l'ha riproposta allo Scarcele. Fino alla scorsa settimana non c'erano mai state polemiche, nemmeno da parte degli studenti, dice il dirigente. Anche l'anno scorso abbiamo avuto soltanto riflessi positivi sia da parte dei ragazzi che da parte delle famiglie. Nessun tipo di riflesso negativo da parte dei non premiati. Quest'anno invece la questione ha sollevato tutto questo polverone. A mio modo di vedere la ragione è dovuta al fatto che da qualche mese a questa parte la parola merito solletica la curiosità e la fantasia di qualcuno, in particolare in considerazione del fatto che la parola merito è stata inclusa nella intestazione del Ministero dell'Istruzione, oggi anche del merito. La scelta di consegnare una somma di denaro invece di buoni libro o cinema è un modo per responsabilizzare i ragazzi all'uso del denaro, ma c'è chi ha visto la volontà di creare disparità tra gli studenti. Non è vero quanto pure si dice sempre in maniera pretestuosa che questo tipo di eventi di attività sono classiste, perché posso dimostrare proprio con i nomi e i cognomi che per riservatezza non faccio, che la maggior parte dei ragazzi che arrivano a premiazione non sono figli di papà, ma sono figli di persone normali, di famiglie modeste, che magari attraverso lo studio capiscono che possono far migliorare anche la loro stessa famiglia.